Buongiorno, benvenuti, cerchiamo oggi di risolvere se avete dei quesiti, di dare delle risposte e di uscire tutti felici e contenti. Lascio la parola al sindaco che introduce un attimo la serata e poi ci sarà il direttore di Alea, Paolo Contò, che è qui per voi proprio per rispondere alle domande, partendo anche dai punti della petizione che avete pubblicato su Facebook e che abbiamo visto anche sui giornali. Quindi noi avremmo preparato una PPT per quelli lontani se vogliono vedere dove c'è domanda e risposta scritta. Poi c'è a disposizione il direttore per approfondire le risposte scritte. A voi va bene così? Ok? Ok, buona serata. Sindaco? Grazie Mita, grazie a tutti voi che siete qui presenti, grazie a Contò, è un uomo in carne ossa, non è? Un ectoplasma, cioè è lì, Paolo è un amico di Pradampio e tutte le voce. No, perché alla fine è stato troppo pesante anche questa comunicazione sui social e dobbiamo vivere così oggi, cioè niente da fare, no? Magari qualcuno si arrabbia, qualcuno poi... però ci sta, non c'è da fare. Siamo di fronte a dei cambiamenti importanti e i cambiamenti molte volte spaventi. Io, il mio ruolo stasera è questo, quello di raccontare come siamo arrivati qua. Non è che uno si alza la mattina e dice ma guarda oggi ci fa così. Io ero assessore 15 anni fa e... non c'è? Non si sente? No, perché alcune temperanze dopo non vanno bene, cioè il porto. Città Pradampio, il sindaco, datemi un po' di spazio. 15 anni fa Forlipopoli decide di iniziare il porta a porta. Io mi ricordo che Paolo Usofoli che era il sindaco, io ero assessore, il sindaco era Cia Pradampio, Brocchi, e iniziò il porta a porta, un macello, cioè fu una cosa devastante. Oggi il porta a porta, Forlipopoli funziona ancora. No, no, io non so, io non so, paghi tante tasse e scrivi su Facebook, va bene, anche io le pago tante, le paghiamo tutto. Tempo è questo, ti faccio una narrazione. A Forlipopoli partì qui da noi il porta a porta, subito dopo partì Bertinoro e lo fece in corrispondenza delle lezioni, tant'è vero che io gli ho detto, ma adesso è un malo, ma come fai? E' un saccarello. Era perché aveva un'idea. Intanto nel 2009, se vi ricordate, io vinco le primarie con William Frumini, poi vinco le lezioni e poi succede che c'è una rivoluzione qui da noi, diventa sindaco Bazzani, Roberto, e a quel punto incomincia una discussione. Non so se vi ricordate alcuni politici, mi ricordo Luca Bartolini, che faceva parte del Popolo della Libertà, che ha avuto una carriera importante, due volte consigliere regionale in regione, in regione si pidano 8.000 euro netti, con lo slogan, lo ricordate? Era, era meglio quando non c'era. Forse aveva ragione, e probabilmente non siamo partiti dal di lì. Perché? Perché nel 2011 era, smette di, cioè non c'è più la gara per la raccolta dei rifiuti, ma in regime di prologazio. In regime di prologazio, io nel 2011 ero già sindaco, tutti gli anni avevo il 6-7% di aumento della tariffa dei rifiuti. Vi ricordate che si chiamava Tari, si chiamava... Cioè, ha avuto tanti nomi. Prima era la TIA, era una tariffa, poi è diventata tassa. E perché? Perché poi non si poteva più scaricare l'IVA. Ed è passata, poi dove? All'interno del bilancio comunale. Quindi, la tassa dei rifiuti fa parte della spesa corrente del Comune di Pardappio, che vale un milione di euro, più o meno. compresi quelli che non pagano, che da noi sono circa il 18%. Cioè, quindi, vuole dire questo? Quindi, tutti quanti noi ci siamo trovati all'interno di una dimensione diversa, no? Diversa, in cui trattiamo i rifiuti in un modo diverso. In un regime di prologazio, senza sapere esattamente com'era il piano industriale di era. Perché tutte le volte che noi lo chiedevamo, non ci davano soddisfazione. Ecco che a quel punto è cominciata una rincorsa. È possibile emanciparsi? È possibile fare per conto nostro? È possibile che un territorio può anche essere al di fuori di una multi-utility, dove noi siamo soci, eh? Comunque, parliamo di 1.110.000 euro di utili tutti gli anni, per le azioni che ha. Però di una società votata in borsa, ma soprattutto, che abbiamo chiesto, è possibile dividere lo smaltimento dalla raccolta? Cioè, chi è proprietario degli inceneritori, delle discariche, può essere lo stesso soggetto che raccoglie i rifiuti? Eh, questa è la domanda. Ed è la domanda che poi tutti quanti ci facciamo, come finiscono i nostri rifiuti quando non li differenziamo. Perché qui, io non so in quanti siamo, siamo almeno 100. Ma tutti quanti noi, nelle nostre case, ci vergogniamo se non separiamo la carta dalla plastica, dal metallo, da quello che è. Perché siamo fatti così? C'è una persona che lo fanno naturalmente. È così, lo stiamo facendo. Però quando poi lo facciamo, a quel punto dici, ma perché io devo differenziare, eccetera, e poi non so dove va a finire. Questo rifiuto, no? E pensiamo che vada all'inceneritore perché deve smaltire 120.000 tonnellate, no? È così. Quindi c'è tutto un mondo che è partito. Ricordate, no? Prima dei Cinque Stelle, anzi, l'interno dei Cinque Stelle, c'era la Raffaella Pirini, che poi è stata cacciata dai Cinque Stelle, che è stata consigliere comunale a Forlì, che ha fatto una battaglia contro l'inceneritore. Perché poi le cose si tengono insieme. Noi produciamo rifiuti. Noi siamo una società che produce una quantità grande di rifiuti. Io non so esattamente quanti chili pro capita di non produciare, ma sicuramente più di 400 chili l'anno, più o meno, anche molti di più. Allora ci siamo detti, è possibile emanciparci da questo sistema? È possibile uscire da era per quello che riguarda il sistema rifiuti? È stata una battaglia enorme. C'è centinaia di articoli sui giornali in questi anni. E nessuno di noi può dire che di non averli letto. C'è decine di risoluzioni in Consiglio Comunale di discussione di tutte le parti. E nessuno di noi può dire di non aver avuto attenzione a questi problemi. Perché ci volevamo emancipare da quel sistema. Togliere il sistema della raccolta e quindi diventare proprietari del rifiuto. E dall'altra parte eliminare il sistema dello smaltimento nello stesso sistema, nello stesso circuito. Questo lo dobbiamo accettare perché è stato un percorso che tutti quanti noi l'abbiamo affrontato. Chi dice il contrario vuol dire che è stato assente da un dibattito, da una partecipazione, da una volontà anche di volere, no? Che stride con la presenza di questa sera. Perché se c'è questa volontà è evidente che siamo tutti quanti stati protagonisti di questo dibattito. Quindi c'è un rifiuto che fino a poco tempo fa veniva, prendo, racconto e smaltito dalla stessa società. Io non so se avete visto i semestrali di Ero l'altro giorno. No, non vedo un racconto. Questo è un sistema che è una moltiutile, però in un regime regolato, cioè dove sei in monopolio e tutti gli anni ti aumentano del 6%. Tu capisci che anche mio figlio, che ha 15 anni, riesce a fare imprese e guadagnare molti, milioni di euro. E allora ci siamo detti, è possibile farlo? Bene. Con chi lo facciamo? Negli anni che sono seguiti, quindi parliamo di 7, 8, anche 10 anni fa, delegazioni di amministratori sono andate a Contarina, perché era la punta avanzata. E siamo andati a vedere, io una volta sono andato, e come funziona? E funziona così, eccetera. E' un bacino di utenza di oltre 500 mila abitanti nel Trevigiano, quindi non una realtà completamente diversa, e funziona così. E allora ci siamo detti, come un territorio che vuole agire in un certo modo, perché poi voi sapete che esiste Attersir, che è l'agenzia regolatrice anche, di quello che può fare un territorio. Quindi non è così facile costruire poi una società in house, in casa, al 100% pubblica, con la legge Madia che c'è stata, con tutto quello che è successo, eccetera. Uno sforzo gigantesco, con decine, decine, articoli sui giornali, tutte le settimane. Uno non può dire che era assente, che non sapeva, che non sapeva le cose, perché se alla fine 13 sindaci sono andati in quella direzione, 13 consigli comunali hanno votato, e alla fine c'è stato qualcosa che è maturato, che ha portato, che poi ha deciso questa cosa qua. Non è che uno si è inventato la mattina una cosa, e ha detto, guarda, facciamo così perché a me mi va. E non funzionano le cose così. Perché vuol dire che si è stato assente al dibattito, si è stato lontano da quando si discutevano, non so cosa facevano, però si stava discutendo di questo. Oggi noi siamo a questo punto. Siamo riusciti a creare una società in house al 100%, cosa vuol dire in house? Che non ha utili, non è quotato in borsa. Cioè tutto quello che si guadagna, va nella calmerazione dei servizi. Poi, dopo si affronta il problema, si va a Paolo, di come si deve fare. Ma se noi accettiamo il fatto, come l'abbiamo accettato, che c'era un mondo che non ci piaceva, e siamo riusciti a uscirne, e, credetemi, adesso non lo voglio dire, sono però tanti sindaci, tra cui quella di Roma, che mi hanno invitato un po' e mi ha detto, come avete fatto? Io non lo so, ho mandato lui, mi sono mandato lui, guarda, facci te, perché è così, non ci voglio dare. Ma tu sei proprio in dovecchio, perché tutti sentono. Allora, se vogliamo fare della polemica, così a me non mi va bene, no, no, a me non mi va bene, Nicola, per favore. No, Nicola, è una serata, è una serata dove questa sera le persone devono avere delle comunicazioni. Se qualcuno vuole fare della polemica, non ha capito, non ha capito, no, calma lui, calma lui, calma lui, perché si deve incappare di me? Si era passato il microfono. Va bene, non ha capito. L'abbiamo sentito tu. Non è serata, è un po' citato, è un po' citato, è un po' calmato. No, allora, Nicola, per favore, eh. Ma per favore che fatti? Si è passato il microfono, scopre. Se non senti tu, non ci posso farvi vedere. Scusa. Nicola Mattura, problemi tu dito, e ve lo dico a tutti, capisci? Perché è anche in prima fila? C'è anche in prima fila, dai, Nicola. Però il discorso è questo qui. Quindi noi siamo arrivati a questa decisione, 13 comuni, non perché c'è stato qualcuno che ci ha obbligato a farlo, ma è stato un percorso che è almeno decennale. Questi anni hanno prodotto consapevolezza, hanno prodotto il fatto che... Poi parliamo di... Oggi di questo bidone, perché poi il problema è di... Adesso ti ha invitato un bidone, siamo tutti contenti del bidone. No, voglio dire, alla fine, c'è chi non gli piace il colore, c'è chi non gli piace la dimensione, c'è chi non gli piace quello. Allora, il discorso è questo qui. Io vi ho raccontato, vi ho fatto una narrazione di come ci siamo arrivati. e tutti quanti, nessuno può dire che è assente. Perché è così. Quando abbiamo portato in Consiglio Comunale tutte le decisioni, perché poi si fa di confusione, e capisco anche che si fa confusione, c'è l'Unione dei Comuni, io sono anche il Presidente, l'Unione dei Comuni non c'è niente con Alea. Alea è una società in house, l'Unione dei Comuni è un ente diverso. L'Ivia Tellus è un'altra cosa. Poi io capisco che nella dimensione del discorso, no, 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 è un'altra cosa. Lei non si pensa di avere a preparare un po' di ignorante. Io non so chi è lei. Non so, ma devo andare a giustificare il Presidente per dire No, io voglio dire che io, guardi, c'è la mia mamma lì, ci dicono che mi ha ignorato perché devo trattare lei come l'ignorante? No, lei mi sta trattando come uno che offende e io posso anche offendermi del fatto che lei io offende. L'Ivia Tellus è un'altra cosa, non è Alea, è diverso, ci vuole uno sforzo, è difficile, però tutti quanti siamo chiamati a fare uno sforzo senza offendere nessuno. Secondo me, secondo me, ce lo faccio io fa anche lei. Allora, Alea si chiama Alea, ed è una società in house, chiaro? Chi ha il suo bilancio? Chiaro? È un'altra cosa, non è fuori di mobilità integrata, no, no, io per favore gli dico io, se lei non lo sa, glielo spiego, Alea è un'altra cosa, mi crede, Alea non mi crede. Alea è dentro l'Ivia Tellus, Alea, insieme a tutte le cose, è una holding, l'Ivia Tellus, è un'altra cosa, insieme a tutte le società, il bilancio di L'Ivia Tellus si fa, ma è diverso, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un sforzo, lo faccia, per favore, come l'abbiamo fatto tutti, dai, però non mi può dire che io la prendo in giro, perché non è così, perché dopo alla fine fa tutto, che non si capisce niente, noi vogliamo parlare di altre cose, noi non vogliamo parlare, se ne sente, e dopo lui non sente, e dopo lui non sente, e allora io... è un gran maleducato continuare in questo modo, è un gran maleducato, io non so cosa dire, no, aspetta, io chiedo davvero, questa cosa, io voglio finire la mia narrazione, la mia narrazione è questa, siamo arrivati a questo punto, perché c'è stato un percorso che è durato più di dieci anni, non è stato imposto dall'atto e a un certo punto arriva l'Adea, è stato tutto portato, poi all'interno dei consigli comunali, è così, poi oggi non ci spaventiamo, perché ci spaventa i cambiamenti, io sono anche d'accordo, perché quando arrivano dei bidoni di un certo tipo, però è anche vero, e siamo, penso tutti quanti, d'accordo, che voi non potete pensare che il comune di Pradappio è lontano dalle persone, no, perché chi dice questo, secondo me, vive in un altro posto, perché il 25%, no, il 25% del bilancio comunale è rivolto a sociali, una famiglia su 12 vive nelle case popolari, non abbiamo parcheggio e pagamento, tutti gli anziani che sono nelle case di riposo residenti a Pradappio, prendono una mensilità dal comune di Pradappio, e abbiamo tante altre cose, io non so chi ha portato i bambini a Santa Rosa, quanto avete pagato al mese nella scuola comunale, 25%, no, aspetta, perché alla fine tutto questo si risolve in una questione legata al sociale, attenzione, allora, se voi pensate, come ho detto da qualche parte, te non ti preoccupi degli anziani che devono spostare i bidoni grandi, te non ti preoccupi delle quasi 800 case sparse, eccetera, vuol dire che c'è qualcuno che non ha capito chi sono io un pochicchia alla mia amministrazione, perché vuol dire che non sa o non immagina neanche quello che noi rivolgiamo al sociale e a Pradappio, perché se in qualche modo c'è stata una reazione legata al voto quattro anni fa, perché vedete, e dice, ma è stato, allora succede questo e ve lo dico proprio un po' e ve lo voglio dire, tre anni fa arriva un giornalista della Repubblica e mi intervista, mi fa cinque pagine su venerdì della Repubblica legata al museo del fascismo che voglio fare nel Palazzo di Francia, alla fine mi dice, ma scusa Silvano, te è l'ultimo mandato che hai, ti manca poco, non puoi più fare il Silvano, ma te l'ha fatto fare, sai perché me l'ha fatto fare? Mi sono nato lì, ho vissuto nel palazzone per 14 anni e io voglio bene a quella roba lì, a quel palazzo lì, ed è per quello che ci ho messo la mia vita e a questo punto tu arrivi e dici, ma scusa un attimo, te mancano nove mesi e non puoi più fare il Silvano, chi te l'ha fatto fare? Avento di una partita come questa dove ti insultano su internet, avento di fare tutte le cose, e sembra quasi che non capisci niente, forse vedo, no? Perché ha parlato con la mia moglie probabilmente, non capisci niente, con la fuga di notizie, sapete quello che è? Perché probabilmente c'è un via di fondo legato al fatto che non siamo i primi a fare porta a porta, non siamo i primi, non abbiamo, non stiamo inventando la ruota, noi non siamo, la cosa più bella che ho letto su internet, sapete cosa c'è? io l'ho scritta a lei e dice ma noi abbiamo un paese pulito, parlate pulito, parlate molto pulito, è un complimento che è enorme, no? Perché sai, per dei complimenti oggi le fa fatica, visto che Lory mi ha detto guarda che qua viene donatore di sangue e ce ne va e l'abbiamo tagliato ieri mattina, no? No, per dire, perché è una gran fatica, eh? E dice guarda che parlato è pulito, è pulito, e allora dico per quale motivo noi ci mettiamo in una condizione tale per cui pensiamo che il cambiamento non ce lo può sporcare? Perché noi abbiamo sicuramente questa palla di vento che ci fa vedere il futuro dove dice guarda che poi la gente butterà, ma la gente siamo noi, se è pulita per Dappio perché la tenete pulita voi, perché domani dovete buttare il bidone nel fiume? Non siete così, perché pagarete uguali? No, no? voi siete quelli che tenete per Dappio pulita e per quale motivo domani la dovete sporcare? Perché è la vostra a predappio a buttare gli eseri è la vostra a predappio e voi ci tenete e voi la sporcherete e la mutterete lì nel fiume perché ci tenete e allora io dico se oggi è pulita perché domani deve essere sporca? perché dobbiamo avere il problema del fatto che l'amministrazione comunale non pensa agli anziani o non pensa ai disabili? per quale motivo pensate così? cos'è cambiato nelle vostre teste? cos'è cambiato nel vostro atteggiamento? perché pensate così? perché e quindi io penso che chi pensa così vuol dire che ha un pregiudizio e chi vive del pregiudizio bisogna stare attenti perché è una banalizzazione delle cose il pregiudizio porta all'isolamento state attenti io vi dico questo se l'ha fatto Bertinolo se l'ha fatto Fornipop se l'ha fatto Fornì io non penso che noi siamo di sotto dei formi veri dei formi popolini e basta perché il tema è questo si tratta di fare esattamente quello che stiamo facendo oggi poi se c'è qualcuno che ritiene immagina più giudiziale quindi ideologica perché l'ideologia sai cosa c'è? c'è poi il fatto che non vuoi discutere perché non vuoi cambiare io sono proprietario della fede io ti dico quello che penso chi ha l'ideologia probabilmente è un qualcosa che ci sta però attenzione perché è paura del cambiamento è paura del cambiamento abbiamo letto abbiamo letto tanto che non si tratta di fare esattamente per favore per favore per favore per favore iniziamo con le domande allora se è a voi perché andiamo noi a cercare i bidoni scusate scusate perché altrimenti non andiamo avanti con la serata allora quindi andiamo ok avete tempo anche di parlare allora siete tutti cortesemente cortesemente allora che dite diamo lettura alla vostra petizione ok noi abbiamo le risposte scritte sì e poi se volete approfondimenti le riprendo tutte alcune domande non sono della petizione alcune sono di altri perché buonasera intanto spero di aiutarvi nelle riflessioni sono una persona umana effettivamente sono fatta di carne sì no nel senso che sì quello che sono una persona che viene da Treviso e che viene da questa esperienza appena citata dal Presidente proprio perché è un'esperienza datata da molti anni al punto che per dire oggi che è un piano di mia figlia 19enne lei non ha mai visto è una nativa differenziata non ha mai visto i sistemi tradizionali che qui sembrano la normalità ma anche in altri posti dell'Emilia Romagna ci sono queste esperienze però è un'esperienza datata per cui qualche suggerimento per voi che state facendo delle riflessioni discussioni legittime mi sento di darlo proprio per questa esperienza e quindi nel rispondere alle vostre domande vostre adesso non so se siano di tutti ecco perché passo su ogni settore del progetto a inquadrarle adesso siamo nel settore del modello e ho messo nel modello la domanda che era pertinente che è arrivata il modello che abbiamo presentato alle serate è il modello centrato sulla responsabilità il rifiuto è di ciascuno e quindi ognuno fa delle cose si fa è responsabile ne risponde paga per quello che produce e non per quello che non produce e viceversa io sono responsabile del mio rifiuto questo è il principio c'è anche una responsabilità di una società pubblica come Alea che rappresenta la responsabilità collettiva che è tenuta ad avviarli correttamente a riciclo perché devono essere puliti alla fonte ma destinati agli impianti di riciclo adeguatamente il principio di responsabilità mi ha fatto iniziare in mente una delle domande scusate se non sono tutte di questo territorio me li ho messi insieme per rispondere a tanti magari alle domande che nascono dal pubblico ma sono le solite campagne pubblicitarie di una volta che faceva era e che come facevamo sapere che le cose adesso sono cambiate rispetto a prima posto io non so cosa è successo prima a me sembra che la comunicazione che centra sulla responsabilità singola e collettiva sia un fatto nuovo a noi sembra che sia un fatto di discontinuità e credo che il messaggio e gli strumenti collegati a questa responsabilizzazione sia un fatto nuovo infatti giudicheranno dopo le cose però questo è quello che ha mosso il modello turistiano e non solo qualche migliore di abitanti alla tariffa puntuale e grazie e in Italia sarà la destinazione futura sicuramente ne vediamo andiamo avanti poi presentavo i risultati della raccolta differenziata finora insomma sapete che al 2012 noi dovevamo fare il 65% in Italia 65% di raccolta differenziata allora quelli che si avvicinano forse hanno superato era Forlipopoli e Bertinoro perché avevano un certo modello di gestione ma abbiamo risultati non per essere generosi sapete che la campagna che è stata tanto intuperata negli anni 2008 2009 2006 beh la campagna ha già superato molti di questi comuni molti di questi comuni ma di molto anche ha superato la Toscana ha superato la Liguria ha superato la Valeta Osta e qual è il modello che si sta affermando un modello di raccolta domiciliare responsabilizzante quindi ogni utenza ha i suoi bidoni è uno dei temi caldi sicuramente e quindi avevamo spiegato qual era l'articolazione dei servizi in funzione delle situazioni specifiche quindi queste erano salve il vetro che era stradale per previsione obbligatoria e solo questa obbligatoria del piano d'ambito Forlice-Sena tutto il resto che prevedeva il vetro stradale e il resto è raccolta domiciliare domande quindi legate alla raccolta porta a porta le ho messe in fila a questo ragionamento non più di due bidoni in casa è una richiesta è una domanda una proposta e nei condomini bidoni comuni attenzione anche tutti cioè non è che sia obbligatorio scusate mi spiego ma ci saranno situazioni e ci sono situazioni abbiamo alcune già in mente che avranno se discuteremo con i condomini la raccolta condominiale anche non solo di solito ma magari di tutte mi viene in mente Forlì dove già abbiamo delle situazioni viste che sicuramente è molto più Forlì anche la città copromuove ma questa diciamo organizzazione di quanti bidoni se singoli nei condomini o collettivi nei condomini dipende dalla situazione dello specifico condomino la raccolta porta a porta che è stata avviata a Forlì vecchia aveva una regola che fino a 5-6 tra alloggi c'erano i singoli oltre i 6 c'erano i contenitori collettivi questa regola invece cambia e passa attraverso la determinazione delle situazioni specifiche potrebbero essere situazioni di piccoli condomini impraticabili o piccole utenze impraticabili che hanno il volere oppure addirittura condomini vi garantisco che la città di Treviso ne viene in tutta la cintura condomini che ancorché più di 6 alloggi 30 40 vi assicuro che porterei un grattaceno più importante di Treviso con popolazione con etnie diverse da quella locale hanno dei singoli dentro scusate volevo dire quello che non si fanno scappare io sono attorno a questo tema torno indietro che forse non ho finito ecco le raccolte stradali diciamolo subito le raccolte stradali hanno il difetto e probabilmente perché io non sono convinto lo avrà anche la raccolta del vetro la raccolta del vetro avrà un problema di manutenzione di pulizia perché in strada le cose di tutti non sono mie non sono responsabili le cose non perché siamo delinquenti non perché siamo persone poco corrette incivili perché il comportamento sociale delle cose di tutti è una cosa un po' meno attenta rispetto alle cose individuali lo potete vedere sull'escaldamento soltanto esperienza della vita comune qui in Emilia Romagna vi porto l'esperienza della società del modenese che ha 11 comuni che sono partiti anche loro con questo modello già con la raccolta della plastica stradale e il problema della plastica stradale è che l'impunità è tale da indurre gli stessi comuni a domicilizzare che è quello che mancava anche la raccolta della plastica poi andremo anche sul lumido per dare qualche informazione in più sulle raccolte stradali del lumido andiamo avanti quindi adesso sì ecco poi c'è la domanda sulla risposta no non abbiamo capito la prima domanda la richiesta di due sacchetti e due bidoni in casa invece che quattro bidoni non abbiamo capito la risposta allora torniamo indietro allora allora ti conto che mi sento noi chiediamo due bidoni invece che quattro due sacchetti allora intanto io sto dicendo perché facciamo questo progetto il progetto è stato approvato da tutte le autorità da tutti i prosigli comunali quindi la società esegue questo progetto non è che non è importante almeno per avere una discussione che non sia così insomma no testosterone come abbiamo avuto io non conosco neanche una domanda allora scusate un attimo una domanda un attimo scusate allora c'è la vostra rappresentante che avete detto che avete nominato rappresentante del gruppo ok ok allora adesso lei legge le domande ci date il tempo scusate scusate perché altrimenti non riusciamo ad andare avanti allora visto che c'è la vostra rappresentante lei leggerà le domande se volete se volete alla fine non ho chiamato niente voglio chiederti fagliela fare vieni qua mia Maria vieni qua prima prima diamo voce alle domande della predizione se c'è un microfono io volevo solo dire due cose perché Maria è un merito di una scuoletese di una pubblicità che io sono venuta per ascoltare perché la cittadinanza si trova anche singola io faccio parte di una frazione abbiamo fatto dei gruppi per leggerci quello che ci avete dato e volevo fare comunque due critiche in assoluto innanzitutto e anche voglio dire voglio dire quello che penso di riferimento a quello che c'è scritto cioè innanzitutto è stato sbagliato il metodo perché è stata una cosa in forza dall'alto quindi c'è un'autocritica che io faccio a tutti i sindaci consiglieri presenti comunali perché sono loro che hanno fatto il tempo in cittadinanza e dovevano essere loro a confrontarsi quando è arrivato l'atto in consiglio e chiedere qual è il loro parere e spiegare questa è la prima scuole di pensa che è stata fatta perché le cose imposte mi stanno così nel caos nel caos e nell'ansia di tutti i cittadini perché voi io sono strinferi da un mese non vi dico l'ansia che ha creato anziani giovani nella mia frazione per la più alta ci siamo messi in gruppo a leggere puntino per puntino perché uno voleva sapere una cosa l'altra cosa tra di noi abbiamo fatto un lavoro partecipato in autonomia cosa che comunque andava fatta dal mio punto di vista anticipatamente è un'autocritica faccio a voi tutti non fate più delle cose imposte dall'alto perché la gente non ne può più le vuole conoscere prima quindi questo ormai lei prima diceva non posso cambiare il regolamento di tutti i consigli comunali è ovvio perché se è stato deliberato non è che adesso si può fare andava fatto prima quindi adesso si tratta solo di prendere atto di una cosa che è stata deliberata e che voi state attuando non ne ha neanche colpa lei è un tecnico ovviamente lei applicherà ciò che è scritto giustamente però giustamente io stasera ho partecipato anche per affrontarmi vorrei chiarezza su tante cose che ancora non sono chiare allora sono stati consegnati questi contenitori c'è chi li ha accettati chi li ha rifiutati chi li ha rifiutati che cosa comporterà quando si discute io le riporto quello che sento dicono ah io li metto nel tuo perché io non li voglio vabbè non è così neanche la regola perché c'è anche il senso civico che credo che sia parte di tutti noi quindi una raccolta differenziata un modello diverso di raccolta di rifiuti andava fatto e questo non che dubbio perché non possiamo pensare a essere conservatori di mantenere i lati sistemi quando poi effettivamente ci lamentiamo che gli inceneritori bruciano bruciano e inquinano la riattitudine allora a questo punto ci sono delle questioni secondo me che entrebbero chiarite a parte ai punti di questi movimenti che comunque ho letto tutto perché in internet ho sempre letto tutto no no ho letto tutto anche le interviste chiamate terroristi perché sono andate no no secondo me avete fatto un movimento secondo me anche di risveglio della popolazione perché ovviamente ci siamo tirati dietro sette comuni dietro a noi ma effettivamente è una cosa che partita e poi allora la questione è questa non è ben chiaro ancora il discorso della tariffa rispetto a ciò che paghiamo oggi di chi non è residente ad esempio il comune di Predapio ha fatto un'ottima cosa ad esempio per i residenti nelle canze di riposo aveva fatto il regolamento che gli snoghi di diminuzione della tariffa ecco se questo viene mantenuto io l'ho chiesto alla signora che ha portato i bidoni ha detto faccia presente però lei poveretta cosa vuole non posso rispondere lei considerando che gli anziani sono tanti nella mia frazione sono la stragrande maggioranza quindi è importante sapere anche cosa cambia perché questo non è chiaro dal punto di vista della tariffa dal punto di vista delle responsabilità giustamente lei prima l'ha chiarito però è anche vero che noi mettiamo i bidoni sulla strada di esempio avuto sulla strada ecco vorrei che fosse chiaro che giustamente il senso civico se gli dice passo il martedì ovvio che non glielo devo mettere il martedì perché poi anche noi cittadini dobbiamo avere il senso civico viene il martedì e il martedì lo metto fuori la notte lo mettiamo presto perché effettivamente come dicevano prima il pericolo c'è perché se un bidone va nella strada poi c'è la posizione di cose che ancora non è stata chiarita dei ristoranti quindi e poi c'è anche la questione che molti sentono che si lamentano che anziani in casa ad esempio non autosufficienti e i bambini giustamente che rifiuto anche cioè quello è un po' peggio perché nelle strutture ci sono dei rifiuti organici che li rifiuto a parte quindi anche il discorso mestruale organicamente detto al femminile nelle strutture igienicamente lo diciamo perché è un fatto naturale mettono dei contenitori opposti che ritirano non vengono neanche ritirano veramente a parte i pardolini delle strutture pedaliere sanitarie sociali e quindi questi sono i temi importanti considerato adesso che si è partiti tornello cioè bisogna essere chiari propositivi nel modo in cui si può perfezionare il sistema di raccolta questa è la cosa più importante credo che tutti noi lo vogliamo come si può perfezionare per evitare che non crei disagi perché non è sempre così vero che anche dove c'è il disagio non l'ha creato ecco in certi paesi l'ha creato come quindi come evitare quindi un senso educativo civico a noi serve ma serve ascoltare trasmetterlo parlare tra di noi serve essere anche come queste persone che si stanno dando da fare perché comunque ci serve per riuscire a vivere in comunità se no rischiamo veramente che tra due mesi ci ritroviate qua che succede la rivoluzione ma non dico predato perché vado dove perché il problema è generalizzato quindi c'è bisogno di chiarezza dal mio punto di vista siccome io sono una cittadina vi dico quello che sento stando con la rivoluzione troppo non era prevista un'udienza così lunga la capacità della memoria in mia situazione non mi permetto di seguire la rivoluzione non mi ricordano ma era così tutti sono grazie grazie non so se devo rispondere direttamente a questa prima domanda prima della 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 ripetizione la signora allora ha fatto due domande una relativamente a come si calcola il numero di abitanti se una persona è andata in casa di riposo questo mi serve per dire si calcola come prevederà il regolamento dei comuni se il regolamento dei comuni come adesso lei mi ha detto che è in tassa prevede che nel calcolo del numero dei componenti del numero della famiglia non c'è la persona stabilmente ricoverata non so come lo dico il regolamento non è area che fa il regolamento preciso è i comuni che hanno questa competenza io lo devo applicare quindi il regolamento se dirà che c'è una per dire una riduzione per il numero di occupanti c'è anche un'altra sindaca lì parliamo con i sindaci allora scusa ma sto dando informazioni cioè Alia è un soggetto industriale che esegue un servizio per carità quel progetto di cui sono molto convinto perché l'ho vissuto da 20 anni funzionerà anche qua se ci sarà bisogno di forrezzare un signore vengo alla sua osservazione siccome penso di essere anche un po' umile voglio dire io sono sicuro che funziona però l'infallibilità non è delle persone io penso che se per strada in una relazione di dialogo si trovano delle situazioni man mano e allora vengono questi confronti di trovarsi anche in altre serie e dire sì siamo partiti però questo manca questo si può correggere io credo che il modello al di là delle preoccupazioni che vengono funzioni perché l'ho visto da tanti anni non solo